Dramma per Emma Marrone. La terribile notizia di pochi minuti fa che ha sconvolto i fan. Purtroppo oh! Benvenuti nel nostro canale. Prima di iniziare il video ti ricordiamo di iscriverti, lasciare un like, e attivare la campanella per non perderti tutti i prossimi aggiornamenti. Durante la puntata di ieri del programma radiofonico con Nicolò De Vitis, la cantante Emma ha condiviso con il pubblico alcuni momenti difficili della sua vita. La cantante ha rivelato di aver affrontato la malattia tre volte, un percorso che l'ha portata a perdere definitivamente le ovaie. Il tumore è stato scoperto casualmente quando una collega l'ha invitata a sottoporsi a una visita ginecologica. L'ho vista cambiare colore in viso e da lì è stato un inferno. Ha raccontato Emma. Nonostante non abbia potuto congelare gli ovuli, Emma ha espresso il desiderio di diventare madre, sottolineando le restrizioni italiane sulla fecondazione assistita per le donne single. Ho 39 anni e tutti gli strumenti per essere madre. Economici, psicologici, sostegno della famiglia. Ma non posso avere figli senza un compagno. La trovo una grandissima ingiustizia. La cantante ha parlato apertamente delle sue sfide. Mostrando coraggio e determinazione nel superare gli ostacoli personali e nella lotta per i diritti delle donne. Lascia un commento alla fine del video. E seguici per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per averci seguito. A presto con un nuovo video.